via al pack opening ci siamo abbiamo già visto le novità prima vi lascio qui riferimento nel video che troverete su youtube la descrizione dei social di pass and friends da cui abbiamo acchiappato e carpito quali sono le novità di questo giovedì 4 marzo 2021 ragazzi abbiamo il coric moment del atletico in particolare forlan e torres partite del 2015 per torres 2010 una singola partita che potete trovare sul sito di pes e scoprire appunto qual è la singola partita che rappresenta il momento in cui ricò di questi due grandi giocatori che si sono un po persi in un momento della loro carriera ma che hanno fatto cose certamente straordinarie allora via ragazzi parliamo con il poto di questa settimana vediamo un pochino chi possiamo pescare abbiamo luca core che ormai è un cliente fisso bel depol gorezca quanto lo vorrei gorezca porca miseria gigio un altro che vorrei ruben diaz mi piacerebbe ma non esageratamente gozens bell'animale la battaglia guram non mi interessa boadu ragazzi se pesco boadu faccio un casino e poi mustafa che è il ragazzo praticamente che che lavora nel negozio di tappeti qua fianco salutiamo mustafa che sicuramente sta guardando questa live lo so che sarà una battuta non c'è niente di male a vendere i tappeti noi non li sappiamo vendere ragazzi non li sappiamo vendere va bene faccio dei tappeti di merda loro li fanno bello e diciamole le cose come come stanno e mamma mia o deve sempre pensare male sempre virtualizzare su tutto ma basta e e sto scherzando dai mustafa 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 mu sta mu sta mu sta mu sta mu sta fa chi è e finalmente e finalmente e finalmente permettetevi scusa scusate 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 permettetevi scusa scusate 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 permettetemelo eh permettetemelo ma che se io l'abbiamo pareggiato non importa sempre comunque l'abbiamo a da te nostri eroi il rigore si segnerà che si finalmente noi che giochiamo col cuore se ci stendono in aria che colpa ne abbiamo milan milan solo con te milan 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 col culo gioca grazie già lo risponde abbiamo cominciato bene vai allora vediamo un po' chi pesca Giggio lo volevo tantissimo ragazzi costicchia bisogna pagarlo lo volevo chi è in inghilterra chi c'è chi è questo Bail ragazzi grande totto no Kame chi è no Bail grande Gareth vieni la papà 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 che è forte Bail questo è più forte dell'altro grandissimo dai dai Mustafa 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 Noi vogliamo Mustafa di nuovo Bail no chi è Del City Ruben Dias questo mostro un animale è un animale questo qui bellissime pescate perfetto bella bella grande ottimo non è finita però il piatto forte è qua ragazzi Giuseppe 2GTV grazie per il follow benvenuto ricordate se trovate il video del pacco vega anche su YouTube vi prego non ho mai avuto un ma che feature player da per 2019 vi prego vi prego vi prego vi prego un baffè un baffè vi prego un baffè un baffè vi prego siiii siiii siiiiii siiii siiii Calma, 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 calma. VAMOS! Così Spare Stroga sa manager tutore. Kylian Bappé! Oh yes! Finalmente! Un feature di Bappé! Non ci posso credere! Vai, vai, vai! Posso prendere chiunque gli ultimi due giorni! Non me ne frega niente! Vai! Vai, vai! Aspetta, scusa eh! EXTREME SIGNE NO SIGNE SIGNE LA PRACIA SIGNE 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 VAMOS! A vedere il cocco vuole che ci viene Bella Davdas Mamma mia Non ci serve la fortuna Ci serve il cinismo Contro Deutschland Ultimo giro ragazzi 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 Tutti a seguire il nostro Davdas TV Il re dei caster Super caster della nazionale Adesso provo a informarmi Se fosse Fifa si potrebbe Chi è questo? Cancero ce l'ho già Vedete come ne frega niente Ho preso Bappé finalmente Ragazzi Prima di chiudere il video Che trovate su Youtube Vado a farvi vedere un po' Con i Football Points Che cosa potete prendere? Andiamo su MyClubStore Vedete che hanno aggiunto Cafu, Casillas, Deco e Nedved Ragazzi noi abbiamo 15.700 punti Il nostro obiettivo è questo signore qua Mark Van Basten Lo prenderemo Ragazzi Iscrivetevi sul canale Youtube Perché troverete il video di questo Pazzesco pack opening Anche lì Dovete farlo vedere a chiunque Grazie a tutti 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 Grazie a tutti